oh mamma non ci ha fatto fermo hai mai visto un po' io non l'ho cercato io eh un danno davvero tra la scuola io non l'ho spizzata la professione su cosa welcome to my moon welcome to my moon guys oh ma tu non la sai dentro welcome to my moon guys io sono simone io sergio e questo è il mio canale cosa andremo a fare oggi Sergio forse vuoi vedere il giaccarino oggi andremo a fare l'ai mai challenge con dei fantastici disegni abbiamo disegnato veramente bene quindi ragazzi allora voi ci avete fatte le domande eccole qui ora ne andremo a leggere ci diremo qualcuna quelle più interessanti tipo questa è interessantissima hai mai provato ad essere una persona normale io no è bellissima a te assolutamente no adesso alberto carrara ci dice hashtag simboss beh la fate sempre presente nei video grande albi che ci fa le domande comunque lì c'è sempre hola princesa hola princesa alberto carrara ha detto il boss andatelo a seguire alberto carrara e ci dice hai mai fatto latte e biscotti di notte si raga io tutte le notti cioè diciamo tipo a mezzanotte mamma può confermare perchè io la notte quando mamma e papà si vedono nel film io vengo giù tipo a luna l'interrompo e vado a fare latte e biscotti hashtag tutte le notti latte e biscotti si hai mai baciato uno del tuo stesso sesso io no alberto puzza di piedi però che schifo no no io no albi oh senti che puzza davvero io ho detto ma che dico le cavolate hai detto io che non sento niente io non sento niente però male hashtag boss puzza piedi gaia hai mai detto che uno era buona e poi alla fine era dietro di te io no o forse si non lo so però non proprio dietro comunque idre si però non proprio dietro cioè stava vicino però questa volta hai capito una cosa del genere però in altre situazioni non nel senso come un ragazzo ah pure la madre è pronta sergio non è mai pronto come la dice ah raga allora scrivete sotto se anche a voi succede che vostra madre vi chiama a tavola arrivate lì dovete aspettare un'altra mezz'ora perchè ancora deve mettere la pasta in tempo appena lo dico oh ma mica sono cameriere hai mai barato un testo? di scuola si se per barare uno intende copiare si dai che non l'ha mai copiato non l'ho mai visto dal libro secondo me ma pure i prof erano copiato ma certo ma ovvio allora abbiamo cambiato perchè non mi andavate cercando quindi adesso le domande le farò a mamma hai mai bevuto? no ah beh anzi no cioè hai mai bevuto o si non mi sono mai bevuto ah ma allora calcola che l'altro giorno alla festa dell'amica mia è nato un vodka lemon e un gioco nice ma non ero un gioco però si comunque è bevuto a 90 gradi di tassi accoglio e di tassi accoglio hai mai visto un porno? ah raga dai ma ma perchè se non avessi fatto? ma non l'ho cercato io eh hanno messo i miei amici bucciardo le classiche frasi che dicono tutti eh ma a me l'ha cercato un mio amico hai mai pensato di voler scappare di casa? siiii no io si raga ogni tanto tipo mi faceva una rabbia e volevo scappare di casa io già sapevo dove andavo hai mai parlato con un tuo animale domestico? mamma mamma si mamma mia mamma si mamma è una gattara cioè non è che ci abbiamo tutti i gatti però mia madre parla con i gatti ma la gente non le sapete te? perchè parli di me? cioè però qualcuno gli dice tipo frasi basilari non è che gli dice tipo frasi lunghissime no è tipo lei che gli parla proprio dei suoi segreti ho la princesa tu che trappi senti che è scesa ho la princesa hai mai fatto una figurazza al pubblico? hehehe MBr Usee grazie Sergio ma quanti però? troppe no ho messo no l'ho fatta stamattina hai mai mentito ad un amico per non stare con lui? ovvio si ah simone è un altro che è sottot Ruiz quale amico però? certo no a quelli più stinti no hai mai fatto un danno davvero grave a scuola? sìii oggi no quando è stato sospetivo 7 giorni dillo Ah, raga, ho semplicemente insieme all'amico mio dato fuoco a un po' di pochi pezzi di carta Io ho schizzato la professoressa Su cosa? Non mi ricordo perché, però mi ricordo che è arrivata tutta l'acqua in faccia Ah, no, un'altra volta? Come sbaglio ho spinto un mio compagno che ha dato una testata in bocca a questa E gli è partito il dente Ah, hai fatto la cacca a scuola? No, raga, mai, sì Io no Quando erano elementari ero veramente stupido Comunque quella no Giusto, sì Io no, raga, perché non so, non mi scappa la cacca Poi torno a casa e do del mio meglio, però Ma sei mandato in giro senza mutande? Non so Hai mai mangiato un cammello perché Berlino ti odiava? Ovvio, ma non sembra giusto Non ho capito, però, sì, abbiamo mangiato un cammello Ma non è, esiste la carne di cammello Hai mai pensato di farti un tatuaggio? Sì, ovvio Cioè, non è che sono fissato tipo i tatuaggi, però magari uno piccolo ci sarebbe Ah, ma io voglio fare il tatuaggio, già te l'ho detto, eh Ah, regà 10.000 like Simone Di tatua Simosi sul braccio Qua Di tatua Simosi qua Però lo devi fare Lo faccio Hai mai rubato? Vabbè, regà, malita a scuola, penne Le penne a me me le hanno sempre fottute a scuola Compro 10 penne, le rispone dell'anno Alla fine 2,2 Hai mai fatto pipì in piscina? Ovvio, regà Dai, che è tu da un bo Chi è che non ha mai pisciato a Idromania? La Vlog House lo sa bene quanto pipì io ho fatto in quella piscina a Dani È pisciata, è pisciata Davvero è pisciata Madonna Che sì Tutta l'estate ho fatto la pipì dentro la piscina di Dani Ma è schifo Comunque qua Bestag si può essere anche per spesso video Hai mai pensato a cambiare mascotte per il tuo canale e quindi sostituire Pablo? No, regà No, ovvio che no Però Pablo è pure di sé Pablo è grande Simpaticissimo, lo parla un botto Ma non c'è Pablo, regà Non c'è stato un botto di video Ma regà, io l'avevo riportato qua No, prende Pablo, ha capito Andiamo Quindi ragazzi, per questo video è tutto Amare, ci distrai sempre, sempre Per questo video è tutto Ringrazio un'altra volta Sergio Al prossimo Yes, pota screen Ora tutte le famiglie devono ripostare questa cosa Tutte Quindi ragazzi, ricordate di andarci a seguire su Instagram Io, Simone dei Bianchi, Simone Cargiuli, Alberto Carrara, Detto il Boss Simo, sì, official Quindi quanti like gli diamo? 10.000 10.000 Però se non ci arriviamo almeno a 3.000 like per un prossimo video in compagnia di Seu Allora, regà, per questo video è tutto Ciao Adesso sei sicura che l'avevi riportato su Instagram? Sì, l'avevi riportato Sì, l'avevi riportato Poi Però non ti avrete in cameretta Ma ti sai che non ce l'ha in grano? Sì, ma se ci sta in cameretta Boh, non va bene Non lo sai, da un po' che un papa non lo vede, l'ho sbagliato Ce l'ho anche tu Ma vede in cameretta Però io da un po' che non lo vedo Mi chiedo Mi chiedo Mi chiedo Che non ci sto Ma guarda che non c'è sta la sua, va da venire in macchina, va da venire, ma che fino a C'è quello qui ne manca? Ti c'è? Sve rurali E' triste sicuro, era lui per forza